Le società campane del sud Italia ha raccolta con il presidente della Lega Pro Mario Macalli all'Holiday di Cava dei Tirreni. Si parla soprattutto del futuro e delle problematiche, delle emergenze da risolvere. Il presidente Macalli ha raccolto le istanze dei presidenti di Lega Pro e cercherà di rappresentarle nel breve periodo. Ho incontrato il 98-99% delle società, sono contento, ne faremo altri. Perché? Perché solo parlando tra di noi si capisce quali sono le esigenze di chi ti ha messo lì a governarli e tu cosa puoi fare per loro. Quali sono queste emergenze, queste esigenze da risolvere al più presto? Le priorità? Prima di tutto di non farci mettere le sgrinfie addosso da nessuno. La federazione non ha bisogno di commissari, la federazione ha bisogno di un board politico, chiunque esso sia, con dei programmi, con poche cose ma che vadano fatte. E quindi noi sappiamo quello che secondo noi serve. E dobbiamo con le società dare ancora una dimostrazione che la Lega ha sempre dato di grandissima unità. Noi siamo sempre stati un boccolo di granito e nessuno ci ha mai scalfito. Per quanto riguarda i gironi, il metodo quest'anno, c'è una linea, una teoria? Ma guardi, le teorie... Si seguirà la linea regionale? Ne ho lette tante, ognuno si è fatto il girone che gli fa più comodo. Noi ci siamo andati una regola, fino al primo di agosto non ne parla nessuno all'interno della board della Lega, quindi il Consiglio di Lega quando avrà l'organico parlerà di queste cose. Ma gli accorpamenti regionali potrebbero poi creare qualche disagio? Ma guardi, i disagi li creano quelli che non vogliono bene il calcio, non il calcio. Il calcio dovrebbe creare unità, dovrebbe creare gioia, dovrebbe creare fratellanza. Sono giorni importanti anche per la federazione in generale, ci sono state anche delle polemiche tra lei e il Presidente Agnelli, cose che rifarebbe? Se uno ci pensa queste cose non le rifarebbe mai, per un semplice motivo, non perché è sbagliato o non è sbagliato, perché sa, quando tu vieni continuamente tirato per la giacchetta poi reagisci anche, perché insomma non siamo dei santi. Questa aureola non me l'hanno data ancora e quindi ho una mia dignità. Io se gente ritiene che il calcio italiano deve essere governato da una generazione nuova, io sono perfettamente d'accordo. Il vero problema è che non è perché uno ha 40 anni ed è bravo e uno che ne ha 70 è un deficiente. Qui si tratta semplicemente di trovare della gente brava.